Ciao, sono qui a Graz in Austria per partecipare all'Euroskill, i campionati europei dei mestieri. Con il mio team parteciperò al mestiere di estetica. Durante gli allettamenti ci siamo preparate per questa competizione e ho cercato di trasferire alla mia competitor tutta la mia esperienza e adesso siamo qui e speriamo di poter festeggiare. Ciao a tutti, sono super emozionata di essere qui a Graz per i campionati europei 2021. Vengo qui con tantissime aspettative e tanta voglia di crescere sia a livello professionale che personale. So che mi darà tantissimo, sono super carica e spero di affrontare al meglio queste gare con tutto il mio team che mi è stato vicino e con il quale ci siamo allenati un sacco di tempo. Un bacio, ciao! Ciao a tutti, questa non è la prima volta nei campionati WorldSkills e spero sia per lei un'esperienza di valore, come l'ha stata per me. Mi ha dato molte opportunità lavorative e mi ha fatto crescere anche a livello personale e professionale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!